Spyderco, modello persian, disegnato da Ed Scamp, una serie abbastanza elegante degli Spyderco, come il Chris o qualche altro modello. Questi sono con dei bolster in acciaio e hanno una manicatura con delle guancette in micarta neri, sistema di sicurezza backlock, clip posteriore che logicamente è solo fissa, non può essere utilizzata. Sulla lama vediamo Scamp, il marchio del designer, coltello come al solito realizzato molto bene, l'apertura come al solito è a una mano, il modello come abbiamo detto è il persian, ha una lama effettivamente leggermente particolare. Questa serie ha il ragno stampato in oro e l'acciaio utilizzato per la lama è il VG10, produzione Japan, come vedete qui come ho detto prima c'è il marchio del designer. Ci sono dei liner in acciaio all'interno, il coltello è abbastanza robusto, il back è abbastanza duro da utilizzato e fa perfettamente il suo lavoro. Come vedete non c'è discriminatura e la chiusura è veramente eccezionale, va a combaciare perfettamente col tallone del blocco. Spider Co-Persion